Quella di ieri a Tortora, in piazza Stella Maris, è stata una serata dai mille risvolti. Si è fatto spettacolo, ma anche moda, spazio poi all'estetica, che viaggia in sintonia con la bellezza e il benessere. A miscelare questi elementi, la parrucchiera Olga Battipaglia, la tortoresa da tempo, ha esportato la sua arte a Sanremo, al festival della canzone italiana, per seguire lo stile degli ospiti di casa Sanremo. Olga, nella sua terra, invece, ha intrapreso da qualche anno un percorso di valorizzazione delle bellezze locali, mettendo in moto l'evento Miss Tortora. Siamo soltanto alla seconda edizione, ma non c'è dubbio che se le manifestazioni si curano con scrupolosità e attenzione, il successo è garantito. La marina dell'evento non è sola. Sul palco, ad animare la serata Roberto Mandarano, ad affiancarla nell'impresa di Miss Tortora 2017, tante amiche e colleghe, marchi del commercio locale, che lavorano con passione nei settori protagonisti della serata, proprio come l'ideatrice di Miss Tortora. Si sa, quando c'è una sfilata e si parla di Miss, c'è una giuria che valuta le bellezze e, come sempre, l'impresa è ardua. Nonostante il trionfo delle reginette si premia l'idea, la voglia di esaltare il territorio e la forza di tante persone che amano la propria terra o sognano di sfilare su passerelle più ambite, a raccorgersi di questo lavoro Solange, il sensitivo italiano che ha risposto sì all'invito di Olga e che noi di Rete3DGS abbiamo incontrato qualche ora prima della sfilata. Sono molto felice perché è una terra che io amo, sono venuto già altre volte e non lo dico per fare una sviolinata, ma la gente è veramente buona. Io amo tutta l'Italia perché giro per tutta l'Italia e qualche volta anche oltre, però le due regioni che amo di più è la Toscana e questa regione qua perché si avvicinano proprio mentalmente, psicologicamente, anche a livello di cibo e la gente è buona. È inizialmente un pochino chiusa, però se si accorgono che dentro c'è qualcosa di buono si aprono come dei libri e questa è una cosa straordinaria. Grazie a tutti.